vogliamo ringraziare anche lo stazio di Modella per un giorno per l'opportunità che ci ha dato e speriamo che sia una bella serata. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Questa sera è la prima serata di Miss Open Games, prima del 2018, quindi apriamo veramente con il rivolto con l'agenzia Modella per un giorno. Ci sono tantissime ragazze, tantissimi giuriatri, tantissima gente che è qui a vederci questa sera, quindi assolutamente sarà da non perdere. Il primo concorso del 2018 sarà sicuramente un grande spazio. In bocca al lupo a chiudere il momento! Grazie! 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 Grazie!